La bellezza dell'estate è ritrovarsi tutti insieme sotto il cielo stellato per ascoltare musica, per vedere un film ma anche per partecipare a degli spettacoli di teatro. E come vi dicevo nell'anteprima questa mattina sono contento di avere con noi Cosimo Severo, regista e direttore artistico della manifestazione di cui vi stiamo per parlare mille di queste notti. La bottega degli apocrifi di Manfredonia è l'attore principale per rimanere in ambito di teatro che promuove questa bellissima iniziativa. Buongiorno Cosimo, bentrovato e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Allora Cosimo, partiamo dall'inizio. Mille di queste notti, che è un titolo che rievoca anche un po' quelle note arabbeggianti delle mille e una notte che tanti di noi hanno letto da bambini. Ti chiederei allora di spiegarci il senso di questa bella iniziativa che si svolgerà, come ho già avuto modo di anticipare, a Manfredonia, a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo. Mille di queste notti, in realtà, come era a segna estiva, nasce già, credo, più di 10-12 anni fa. Mille di queste notti è un modo diverso per dire accendiamo in estate il desiderio di futuro attraverso il teatro e la musica. Le mille e una notte è raccontare delle storie per rimanere in vita e qui invece ci troviamo con l'idea di usare l'estate, di avere la possibilità in estate di ascoltare e anche raccontare storie per desiderare futuro. È un po' quello che ci siamo detti nei momenti in cui abbiamo pensato che quest'anno sarebbe stato utile riproporre Mille di queste notti dopo la pausa sia del covid che è del 2022 l'anno scorso e quindi ospitando peraltro in estate spettacoli che normalmente anche facciamo più fatica ad ospitare durante la stagione di prosa del teatro comunale Lucio Dalla. Sono attività che vanno avanti come abbiamo avuto modo di ascoltare dalle tue parole ormai da diversi anni, potrei dire una tradizione consolidata, consolidatissima nella città di Manfredonia che solamente il covid probabilmente ha fermato ma per via dei motivi che tutti ben sappiamo. Leggendo la tua dichiarazione di presentazione di questa rassegna mi è piaciuto molto il richiamo all'aprire lo squarcio, degli squarci nei muri perché la stagione estiva come tutti ben sappiamo è stagione di incontro, incontro tra varie culture, tra vari popoli ma semplicemente o forse anche banalmente incontro tra persone che magari stanno prendendo un gelato insieme e si ritrovano all'interno di uno spettacolo teatrale. Ecco come la bottega degli apocrifi e anche nello specifico poi l'iniziativa Mille di queste notti riesce ad aprire squarci nei muri? Guarda, una delle... ad aprire Mille di queste notti è lo spettacolo Pace da Aristofane che è una riscrittura di Stefania Barrone con me, con la collaborazione mia e le musiche originali di Fabio Trimigno ma che cos'è Pace? Pace è essenzialmente un grande lavoro di teatro di comunità, un teatro fatto dalla città e richiamando una sorta di teatralità diffusa e questo è il modo più immediato e il modo anche più diretto per aprire quegli squarci nei muri, coinvolgendo attivamente in modo da rendere protagonista l'intera comunità e in qualche misura permettere all'estate di non essere solo il divertimento inteso come impegnare le serate ma poter approfittare di alcune serate per poter essere allegri ma di un'allegria intelligente, di poter essere parte di una comunità, anche quell'invito che spesso i nostri amministratori fanno rispetto sul turismo è poter far sì che il turista oltre che l'abitante della comunità, della città, possa incontrare una città viva, una città generatrice e che il teatro e la musica possano in questo periodo per alcuni giorni di questi mesi, caldissimi, riuscire a testimoniare questa vivacità generativa. Una vivacità Cosimo che potremmo racchiudere nella formula produzione di comunità, è una formula molto bella perché non è uno spettacolo in cui ci sono gli attori, le maestranze eccetera che vanno sul palco, fanno il loro spettacolo e tornano a casa dopo aver ricevuto gli applausi o magari anche le critiche, ma è una teatralità diffusa che vuole in qualche maniera e vediamo anche, questa è la locandina dell'evento, è una teatralità che vuole in qualche maniera coinvolgere i giovani, i bambini, i ragazzi, renderli non spettatori muti di uno spettacolo ma protagonisti attivi. Sì, quello che in qualche misura stavo accennando prima, la produzione di comunità è essenzialmente un modo per riattivare quella teatralità diffusa di una comunità. Noi coinvolgiamo normalmente, il progetto del 2019 è un progetto sempre su Aristofane, su una commedia di Aristofane, Uccelli, che coinvolgeva e che continuerà a coinvolgere perché Uccelli peraltro è diventato poi un lavoro che sta contaminando altre comunità, altre città, che magari poi spiegherò. In che cosa consiste? Un grande coinvolgimento di adolescenti e bambini della città, assieme ad attori, assieme a musicisti, assieme a quelle maestranze che non lavorano più da soli, di quelle di cui parlavi, lavorano assieme a non attori, agli adolescenti, ai bambini, ma mettendoli dentro un'idea di teatro professionale, solo che in quel momento loro sono una comunità viva che riaccende delle luci su, in questo caso, come per lo spettacolo su cui stiamo lavorando, che è pace di Aristofane, su questo desiderio di pace e senza retorica, senza, anzi, con la spietatezza della commedia di Aristofane, i ragazzi e gli adolescenti ce lo raccontano e diventano autori, assieme a noi, perché quando parlo di riscrittura è una riscrittura che facciamo, sì, Stefani ed io, ma è una riscrittura che parte da loro e quindi Aristofane non viene modificato, ma viene in qualche modo riattraversato dagli adolescenti e di conseguenza quello che noi vedremo e ascoltiamo è l'Aristofane di quegli adolescenti, di quel momento particolare di quella comunità. Senti Cosimo, purtroppo sugli adolescenti, sui giovani in generale si sentono sempre cattive notizie perché troppo legate agli smartphone, insomma tutta quella retorica che noi ben sappiamo e che incontriamo tutti i giorni e che non vogliamo adesso tirar fuori, però io vorrei che tu ci facessi un po' capire qual è anche l'atteggiamento di questi ragazzi nei confronti del teatro che è una passione che è un qualcosa che non muore mai, il teatro c'è sempre stato, c'è e ci sarà sempre all'interno delle comunità, delle parrocchie, dei circoli associativi eccetera eccetera, ma quello che tu noti da parte degli adolescenti è un cambio, vista anche la tua esperienza, un cambio di atteggiamento, un nuovo stupore o un disinteresse. Allora ti faccio questo racconto brevissimo, in questi giorni, immagino che tutti noi, stiamo vivendo un caldo molto 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 presente, un caldo che non ci permette anche semplicemente di camminare per strada, le nostre prove con i ragazzi in queste serate, in questi pomeriggi iniziano intorno alle 5 e mezza, alle 6 e terminano alle 8 e mezza, 9, stanno con noi 3 ore, 3 ore e mezza e il caldo non ha fermato gli adolescenti, i ragazzi, il caldo ci ha tutti un po' affaticati, ma non ha impedito loro di arrivare, di esserci e di esserci in maniera autorale. Loro sono autori di quello che in qualche modo noi andiamo a raccontare. Non sono attori, ma più che performer, più che ragazzi su un palcoscenico, sono gli autori di quello che noi andremo a costruire. E questo cosa significa? Che in qualche modo spesso si parla di ragazzi, ma credo che il grande sforzo, più grande di tutti, sia quello di provare ad ascoltarli, provare a mettersi in ascolto e osservarli davvero. Ogni volta io li guardo e continuo a ripetergli, perché a ripeterglielo, i loro volti, il loro modo di camminare, il loro modo di essere in quel momento, in quel cerchio o in mezzo ad una scena, ad un momento del nostro lavoro, è una storia. I loro volti sono dei romanzi d'appendice, dico io. Sono dei romanzi a puntate. Ogni giorno me ne presenteranno una di puntata, anche senza parole. E questo significa mettersi in ascolto. Spesso il giudizio è più forte, il giudizio arriva prima. Il giudizio ci protegge a noi adulti, ci protegge perché ci toglie un pezzo di responsabilità, anche rispetto alle nuove generazioni. Dovremmo in qualche modo rinunciare per un po' al giudizio e provare a metterci in ascolto. Questo non toglie tutto quello che in qualche misura si è detto e si dice sul mondo degli adolescenti, sulla difficoltà che si ha. Ma chi costruisce le condizioni? Siamo noi. Chi costruisce le condizioni per poter far sì, fare in modo che loro vengano ascoltati prima di essere giudicati, prima di essere catalogati. Perché anche la catalogazione è spesso un modo per banalizzare qualcosa di più profondo, qualcosa che anche in una conversazione come quella che stiamo facendo noi stamattina rischia di essere banale e invece caso per caso, situazione per situazione. Generalizzare su il mondo degli adolescenti i ragazzi mi sembra un modo, no? Allora io posso parlare per quelli che io ho incontrato in questi anni, sicuramente noto delle piccole differenze, soprattutto dopo il covid, ma che è dovuto a un insieme di fattori che ha cambiato anche noi adulti. Assolutamente. E a proposito di quelle contaminazioni magari se vogliamo di cui parlavi anche prima. Allora Cosimo, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Io ti devo salutare, noi abbiamo fatto una brevissima carrellata di quelle che sono, di quello che è il senso di questa iniziativa così bella, Mille di queste notti della bottega degli apocrifi a Manfredonia. Invito tutti i nostri amici telespettatori a collegarsi anche attraverso i social, basta digitare, ecco, bottega degli apocrifi sui vari motori di ricerca per ovviamente scoprire il programma nel dettaglio che stiamo vedendo in Locandina, ma anche per prendere direttamente contatto con voi. Grazie Cosimo, grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie mille. Grazie. Buona giornata e buon proseguimento. Grazie, buon lavoro anche a voi. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi insieme per l'ultima parte di Just Today.